Un altro aumento dei casi riscontrati e dei ricoveri ospedalieri. L'ormai classico bollettino di Azienda Zero sul numero di contagi nelle varie ULS ha dato un riscontro tutt'altro che inatteso non ci si poteva ancora aspettare un'inversione di tendenza e i casi bellunesi volano oltre quota 200 con una cinquantina di ricoveri negli ospedali di Belluno e Feltre. In tutta Italia la speranza è appesa anche alla sperimentazione del Tocilizumab, un farmaco per l'artrite che si vuole utilizzare per curare il coronavirus. Anche l'ospedale di Belluno, come altri poli veneti, porterà avanti la sperimentazione. Al più presto inizierà la somministrazione a tre malati, poi si vedrà. I trattamenti saranno disponibili in base all'arruolamento dei pazienti che viene fatto sulla base della situazione clinica. Oltre alla sperimentazione sono stati attivati anche cinque trattamenti per usi terapeutici del medicinale Remdesivir per la cura dell'infezione da Covid-19. Il nuovo direttore di malattie infettive, il dottor Renzo Scaggiante, ha già preso servizio a pochi giorni dall'assegnazione del posto che finora è stato del dottor Ermene Gillo Francavilla in pensione ma rientrato per dare una mano nell'emergenza.